Edoardo, ci è stato ricordato ieri dal maestro Francesco Canessa, che è tradotto nel mondo in ben 84 lingue. Come dire, davvero dobbiamo a lui la universalizzazione della cultura di Napoli. Edoardo è Napoli, ma attraverso Edoardo Napoli è il mondo. Trent'anni fa moriva Edoardo De Filippo, uno dei più grandi drammaturghi e interpreti del Novecento, che fece della città partenopea una metafora del mondo. Un artista indissolubilmente legato a Napoli, vinacque il 24 maggio del 1900 e la scelse come scenario e spunto per le sue opere. Ma il profondo amore per la città, Edoardo lo manifestò anche con iniziative concrete, in difesa dei minori detenuti al Filangeria e a Nisida e con il recupero del Teatro San Ferdinando. Edoardo amava i luoghi della sofferenza, i ragazzi di Nisida, non si nasce delinquenti. A noi adulti spetta dare alternative, la cultura è la principale alternativa al degrado e alla devianza. I 30 anni dalla sua scomparsa non sono passati inosservati. Tantissimi eventi, rappresentazioni teatrali, convegni e mostre dal 2013 e fino a febbraio prossimo ne riproporranno la figura e l'eredità artistica. E dal sindaco De Magistris arriva anche l'annuncio della nascita della Scuola dell'Arte Drammatica del Teatro Stabile di Napoli con sede al San Ferdinando. Abbiamo fortemente voluto, a maggior ragione in un momento di crisi economica, puntare sulla cultura per il riscatto della nostra città. Per la prima volta c'è una scuola di teatro pubblico, di arte drammatica, sarà diretta da Luca De Filippo, nel Teatro di Edoardo, che è il San Ferdinando, per i nostri giovani, per il teatro napoletano, in lingua napoletana, prima ancora che italiana. Il progetto, finanziato dal Comune, è fortemente voluto anche dalla Regione, che sosterrà la candidatura del Teatro Stabile di Napoli a Teatro Nazionale. Ha entusiasmato anche il figlio di Edoardo, Luca De Filippo, che ha accettato di dirigere i primi cinque anni della scuola. Stare vicino ai giovani, ai ragazzi, è stata sempre la sua fissazione, tra virgolette, degli ultimi anni. Stare vicino ai ragazzi, seguirli, cercare di dargli un futuro. Ecco, questa scuola, io spero che in qualche modo risponda a queste esigenze, a questi requisiti. Io penso, desidero che questa scuola insegni realmente anche a recitare in napoletano, per non perdere una tradizione napoletana di cui noi dobbiamo essere orgogliosi nel mondo. Grazie.